buongiorno buongiorno a tutti signori signore devo dirlo qua signore e signori perché oggi oggi noi abbiamo il grande onore guardate è stata festa quando lui è arrivato qui e ci ha raggiunto un attore a 360 gradi una persona splendida una persona splendida prima di tutto e poi un talento strepitoso allora eduardo di filippo luca di filippo hanno lavorato con lui e lui con loro e dire che chissà se pensava di fare l'attore da piccolo 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 è con noi nando paone è proprio questa presentazione mi stavo voltando per dire ma chi è questo e ho solo raccontato una punta di un iceberg gigantesca perché citare di filippo significa no wow partire dall'alto è solo è solo l'inizio grazie 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 a voi sono l'onoratissimo dell'invito ben arrivato noi siamo entusiasti allora ferdinando giusto si alla nagra ferdinando detto nando nasce a napoli si cresce a bagnoli e come diceva il grande totò è più difficile far ridere che far piangere ha questo talento naturale arricchito poi questo dico sempre è come maradona che gioca al calcio da bambino il talento c'era tutto e poi dopo è venuto tutto quanto il resto e come è arrivato a recitare professore poi darò del tuo cara dottoressa le risponderò immediatamente io come tutti i bambini ero estroverso io sono della generazione di alighiero noschese dell'immenso alighiero noschese e io guardavo in televisione alighiero noschese e poi con i miei genitori parenti così facevo l'imitazione dell'imitazione l'imitazione cioè imitavo in qualche modo noschese che faceva vari personaggi grande noschese un messo ricordarlo il messo veramente non ci sono uguali quello che oggi ci si avvicina di più secondo me secondo il mio gusto e maurizio crozza per per altri versi ma anche lui veramente geniale allora questo bambino questo bambino sorridente allegro in una famiglia che va via troppo presto no ecco qui passo al tu nando sembra strano dirlo ma in realtà ero talmente giovane piccolo quando mia mamma è andata via che io quasi non me ne sono reso conto mio padre è andato via che io ne avevo quasi 18 e anche lì ero giovinetto però insomma con la determinazione ad andare avanti nella vita probabilmente anzi sicuramente qualcosa dentro si è rotto magari uno li porta con sé no te ne accorgi dopo bravissima esattamente nei momenti in cui li vorresti vedere seduti il grande il grande cruccio è che non hanno mai visto in polcoscenico questo su questo io penso che ci sia un altro modo di vedere assolutamente allora ma lui voleva fare l'attore da bambino benissimo imitava chi imitava meglio di chiunque altro e quando è che di solito in parrocchia no che uno comincia a salire sul primo piccolo palcoscenico a dire quasi quasi faccio l'attore beh io ho avuto una folgorazione vera e propria intorno ai 14 15 anni la mia famiglia era abbastanza modesta nel senso il teatro non era una frequentazione non ci si andava a teatro non so come mai perché io avevo questo questo pallino questa questo desiderio guardando gli sceneggiati in televisione semplicemente ma pensavo come deve essere bello così poi un giorno adolescente 14 15 anni noi nel quartiere di bagnoli si andava al cinema un po come oggi si guarda la televisione accendiamo e vediamo cosa c'è non si andava al cinema a vedere il film di o con quando si diceva vado si va al cinema si va nel luogo nel luogo qualsiasi cosa proiettasse esatto quella sera proiettavano l'inquilino del terzo piano di roban polansky che non è un film comico ed un film impegnatissimo anche tosto certo e io sono rimasto letteralmente folgorato e ricordo che finita la proiezione i miei amichetti hanno detto andiamo e trono io voglio rivederlo sono andati via tutti sono rimasto lì inchiodato a rivederlo e sono uscito dal cinema dicendo io da grande voglio fare l'attore ed è una cosa che ancora mi propongo quella di voler fare l'attore da grande vuol dire che voglio vivere a 100 200 anni assolutamente è brutto scoppiare a ridere in faccia una persona però in questo caso le tue battute battute fulminanti hanno portato ma questo lo scopriremo tra poco portavano grandi registi a dire se oggi che vuoi dire perché l'uomo inventa ogni istante qualcosa giustamente lavoro nella compagnia di milco galdieri grande 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 regista e produttore teatrale noi dovremmo come paese fare un po più di storia su queste grandi personalità e poi viene a roma fresco fresco proprio 18 anni o poco 19 e vieni notato da roberta bartolini quando si dicono quelle quelle amicizie grande agente e ancora oggi la tua ancora oggi la gente vuol dire che tu sei un uomo d'oro proprio una persona stupenda sì ma anche roberta una persona stupenda non c'è una comunione di intenti enorme ci capiamo al volo questo mi piace questo non mi piace mi interessa lui arriva a roma e c'è gente proprio che lo ricorda diceva quanto era bello avere incontrato nando paone a roma tant'è che gli è arrivata una cartolina che noi gli facciamo vedere gli spediamo dritta dall'ora solare fino a nando paone e nando paone nando è mio fratello ma veramente nando mio fratello sono non amo dare i numeri ma tanti tanti anni che siamo amici fratelli compagni di scena siamo stati e abbiamo cominciato insieme anzi la nostra prima casa a roma la prima casa a roma quando eravamo pieni di entusiasmo di speranze lo siamo ancora è pieni di entusiasmo tanti aneddoti potrei raccontare di quella casa però la cosa che mi interessa dire che nando è mio fratello lo voglio bene è una persona speciale ed è un grande attore parola di cristina donadio carina grazie grazie e davvero siamo fratello e sorella perché adesso come giustamente dice cristina non diciamo quanto tempo ma parecchio veramente parecchio e lei se lo ricorderà noi abbiamo insieme perché è stata una delle prime colleghe diciamo con le quali abbiamo provato a mettere su qualcosa avevamo appunto 18 19 anni e provamo a mettere su il remuore di Ionesco per corrispondenza al telefono ci facevamo la regia noi oggi abbiamo provato questa scena c'è proprio roba da ragazzini però con un affetto signori roba da ragazzini sicuramente per motivi anagrafici roba da quelli bravi perché quando tu urli a teatro bravo all'attore e all'attrice insomma il bravo è quella che fa la differenza ne abbiamo ancora da raccontare da vendere da appendere signori con paone quindi gli aspettiamo tra un attimo è la bravura che fa la differenza allora la gioia di avere con noi ospite nando paone attore a tutto il fondo teatro cinema fiction tutto quello che volete e come amo dire io gran signore perché sai le notizie arrivano prima ancora dei curriculum una fama che mi precede una fama che ti precede perfetto una fama che ti precede allora bad spencer dunque signori molti di noi ricordano lo chiamavano bulldozer intanto bad spencer amore infinito grande signore napoletano grande signore napoletano che lavora in questo film e in questo film nando paone forse nando tu ottieni in questo film il primo ruolo diciamo a pose no a quante pose fai il film quello importante sì uno dei primi importanti e questo qui che di questa foto è bomber che è stato successivo di due anni e mezzo circa tre vi lo chiamavano bulldozer quindi tre anni prima di bomber io girato lo chiamavano bulldozer in realtà bomber è un po il remake più o meno la stessa storia cambiava lo sport ma è molto bella una cosa bad spencer che grande arrivava con i suoi occhi no persona stupenda chi salutava di tutto il gruppo degli attori chi salutava per una questione di appartenenza per me lui era un mito io ero un ragazzino lui già avrà avuto i suoi 45 insomma per me era un signore adulto per per giunta mito assoluto lui e terenzil per me assolutamente erano sacri proprio quindi io avevo questo timore reverenziale quasi non mi avvicinavo lui quando era di passaggio noi gruppo di giovani giovani eravamo lì lui passava dritto poi si voltava verso di me e occhi negli occhi e mi diceva con la sua bella voce roca e gli altri dicevano ma tu ma che gli hai fatto a questo perché saluta solo te ma come mai c'è questo che c'era questa appartenenza partenopea della quale eravamo e sono tuttora io appartenenza partenopea tua splendida educazione salutarlo sempre signor carlo signor carlo buongiorno per carità in lei rigoroso quello quello paga il regista era michele lupo era lui che ti diceva oggi che ti inventi guarda io ricordo di aver fatto il cosiddetto provino qui a roma villa borghese il gruppo di giovani e lui mi dice guarda io vorrei che tu fossi del gruppo quello distratto a roma si dice intruppone quello che inciampa prende sberle urta contro i pali questo qui il distratto e io in quella diciamo improvvisazione ho fatto un paio di cose fingevo di inciampare stavo voltato facevo finta di prendere un palo e la volta dopo dopo quando il film è partito una mattina ho trovato l'ordine del giorno convocazione sul set alle ore sette tutti gli altri alle otto e io l'ho sentita un po come una punizione ho detto devo aver fatto qualcosa che non va quando sono arrivato lì lui e c'era solo la troupe tecnica si è fregato le mani e mi ha detto no che te inventi mi piaceva questo fatto che avessi questo quindi la famosa scena è diventata mi dicono iconica nella quale mordo la bottiglia di coca cola e bevo dal panino scambiandoli è stata la mia invenzione come anche altre e quindi è un ricordo meraviglioso ridono dietro le quinte io questo ve lo dico a casa qua ridono mentre io la fortuna di averlo davanti a me come voi a casa allora questo questo successo devo citare benvenuti al sud perché è doveroso perché benvenuti al sud che è un film perfetto si è vero tu sei più che perfetto non so come dire cioè dai a quel personaggio una sì anche lì ho una un piccolo orgoglio se così si può dire che naturalmente tutti sanno che quello è un diciamo il rifacimento italiano la trasposizione italiana di un film franco canadese eccetera gli sceneggiatori massimo gaudioso e luca miniero che ne ha firmato anche la regia mi proposero e mi dissero ma tu lo conosci questo film io l'avevo visto al cinema e andandolo a rivedere e leggendo era lo stesso personaggio riscritto diciamo in italiano e quindi adattato nella fattispecie napoletano e mi venne in mente questa storia della balbuzia dello stuzzicadenti ispirandomi un po' a quello che era ed è tutt'ora il mio mito irraggiungibile vittorio gasman perché la sera precedente avevo meraviglioso certo peper pantera esatto quello che intacca un pochino con lo stuzzicadenti insomma vogli fare un omaggio insomma un po' anche irriverente insomma beh tu lo hai conosciuto l'ho conosciuto sì sì c'ho lavorato c'ho lavorato la monica vitti è un curriculum meraviglioso stupendo scusate io poi mi sto beando di averlo davanti a me vincenzo salemme ah quando sì se limmi l'ho dito quelli scusa salemme ecco meglio questa è una meravigliosa fotografia che ritrae un'amicizia insomma diventano tutti i tuoi amici Nando, com'è? Com'è sta storia? Vincenzo tu lo trovi poi lo ritroverai insieme ad Edoardo De Filippo cioè siete una coppia nel teatro, nella risata, nel cinema Sì, devo dire che anche con Vincenzo come anche con Cristina è una storia con Cristina è precedente naturalmente con Vincenzo sono appena, penso, 34-35 anni di amicizia pochi, insomma una vita intera e c'è stato immediatamente questo incontro questa affinità elettiva ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a giocare a divertirci, a sfutterci ed è una cosa che è rimasta meravigliosamente viva perché il vostro lavoro è massimo della concentrazione conoscere le battute sapere quello che si va a fare tu prima con grande naturalezza hai detto fingo di sbattere contro un palo e altra gente sarebbe finita al pronto soccorso ma non è solo questo chiaramente però se in tutto questo c'è anche una giocosità e un'armonia si lavora meglio assolutamente perché credo di poter dire che il successo di Vincenzo come autore come regista, come attore nonché come produttore se la canta e se la suona meravigliosamente può farlo se lo può permettere e nasce poi è condita dall'amicizia e quindi di conseguenza dalla appunto dalla finita elettiva dalla condivisione condivisione io rido perché questo soltanto per fare queste due espressioni voglio dire lì o sei bravo o sei bravo non c'è una terza possibilità c'è sei bravo allora dovremmo alzarci tutti in piedi ma invece resteremo seduti l'incontro con Edoardo l'incontro con Edoardo che non serve neanche dire il cognome che peraltro è De Filippo ma è Edoardo Edoardo rideva alle tue battute raccontano tutti questo Edoardo ti incontra ti trova ti sceglie suo attore come Nando dunque io stavo girando un film di Tonino Cervi che era il turno di Pirandello e in queste scene durate tre o quattro pose appunto tre o quattro giorni ed era di questa festa in cui io il personaggio che interpretavo insieme ad un'attrice eravamo la coppia di ballo e quindi sai nelle pause si parla poi durante così e lei mi dice io sto lavorando in compagnia con Luca De Filippo che era la prima compagnia di Luca De Filippo quindi diretta da Edoardo e mi invita a vedere lo spettacolo io vado a vedere lo spettacolo il giorno dopo lei è Colette Chammat non voglio nominarla perché certo e mi dice guarda che io dico ah bellissimo anzi c'è un personaggio che quanto mi sarebbe piaciuto fare e lei mi dice ma tu sai che quell'attore non riprenderà lo spettacolo vuoi che ti procuri un incontro accidenti di lì a qualche giorno incontro incontro il teatro a casa sua il teatro a casa sua Edoardo a casa nella sua casa nella sua villa di Via Quileia lo incontro lui seduto sulla sua poltroncina e facciamo questa lettura di questo testo dove io avrei dovuto interpretare 24 anni un vecchio ultracentenario che sarebbe anche morto perché nell'atto del secondo atto cominciava dicendo è morto Sitammare è morto Sitammare quindi io morivo avevo quest'unica scena e durante la lettura in teatro io ebbi questa intuizione di una parola con la S non lo so Sassari facendo la voce del vecchio e dissi Sassari e feci questo fischio e mi venne e poi proprio Vincenzo Salemme durante le prove mi riferì che lui gli aveva sentito dire io non ho capito Paone come fa a parlare e a fischiare contemporaneamente ma tu sei un mito ma che meraviglia che sei ma che meraviglia e rideva rideva sotto il baffetto quindi per me figura di un orgoglio immenso veramente tu vai a vedere quel lavoro e dici mi piacerebbe tanto fare quel ruolo e l'attrice ti dice guarda che l'attore e quando sono le combinazioni della vita poi tu dici tuo papà e la tua mamma dove erano eh ma infatti a teatro quella sera con te non ci sono dubbi ma sicuramente sicuramente e poi ovviamente signori la bravura bravura qui stiamo parlando di bravura bravura a tutto tondo voglio voglio ricordare e voglio citare oltre al fatto che questo è una parte importantissima del tuo lavoro teatro sala Molière a Pozzuoli e voglio citare Cetti Sommella tua moglie che ha lavorato fino fino all'ultimo con una passione con una dedizione insieme a te gomito a gomito fianco a fianco perché il teatro è quella scuola che forma i grandi attori che forma il futuro che secondo me forma anche l'uomo eh sì perché insieme a Cetti oltre ad aver messo insieme in scena quattro delle sue tante commedie scritte da lei poi per i miei impegni eh diciamo irrinunciabili io ho ho dovuto diciamo staccarmi dalla coppia artistica e quindi lei ha messo a continuare a metterle in scena con con i giovani attori usciti dal nostro laboratorio che è ancora ancora tengo insomma ancora dirigo e lei è stata mentore insomma consigliera e e soprattutto questa grande energia propulsiva eh alla fine eh quattordici anni fa nel duemiladieci l'abbiamo incanalata in questa piccola sala teatrale cosiddetta off perché sono settanta posti che però a detta di tutti ha un'energia come si sta bene qui insomma e quindi adesso come i miei genitori anche c'è ti chissà dov'è ma lì sta lì non c'è dove non c'è fiera di te per l'appunto come sono tutte le persone che ti conoscono ehm nella stagione settantanove ottanta la televisione la RAI ci regala il primo Varietà per ragazzi era condotto da Fabrizio Frizzi da Roberta Manfredi nostra amica Robertina e il sottoscritto Nando Paone e vinceste il microfono d'argento che era che era un premio fondamentale ambitissimo allora tu che passi dal teatro al cinema alla televisione come conduzione come cioè è lì che viene fuori quel tuo 360 gradi Nando sì devo dire che la conduzione non anche allora giovanissimo non mi tanto mi ispirava tant'è vero che gli autori Stefano Jurgens e Gustavo Verde Verde e la famiglia Dino Verde sì sapendo conoscendo queste mie caratteristiche comunque mi facevano più che condurre no no certo mi facevano fare degli inserti degli inserimenti però è conduzione comunque però è conduzione comunque sì 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 era condurre le persone assolutamente ai ragazzi a seguire a vedere no no non lo dico nell'accezione più rispettosa ed ecco a voi in mezzo a noi cioè il conduttore come siamo abituati a vederlo quello è più il presentatore il conduttore il creativo no tu eri quello eri la persona che faceva sì cominciai col gestire un angolo di scambio scambio baratto appunto il barattolo no e poi questa rubrica è andata avanti fino alla fine però durante questa appunto conduzione di questa di questo settore della trasmissione io ogni tanto grazie appunto agli autori divagavo e facevo queste uscite tu sei bello perché tu sai divagare anche con Fabrizio abbiamo fatto delle coppiette divertentissime e lui gli scappava da ridere continuamente che aveva quella meravigliosa risata adorava ridere esatto con la testa esatto esattamente Fabrizio Fabrizio caro allora signori guardate la televisione la televisione abbraccia Nando Paone anche sotto tanti altri tipi di lavoro per esempio le fiction no e che fiction ed è arrivata una cartolina per Nando Paone a noi ci piace tanto fare l'ufficio postale guarda come ci piace ma proprio tanto in questa puntata ne abbiamo tanti di messaggi perché Nando Paone è qui e quindi sorpresa ciao Nando non te l'aspettavi guarda dove sto un posto anche a te molto caro il 7 di 1000 settembre che dirti amore folle per te gratitudine abbiamo condiviso tanti momenti belli più difficili anche sempre in grande armonia in grande rispetto stare accanto a Tencena è proprio per me è una gioia lo sai è un imparare ogni giorno cose nuove da te che sei un grande tutti ti adorano ci manchi va bene farsi intervista da Paola però a un certo punto basta Paola rimandacelo qui a Napoli perché abbiamo bisogno di lui per far funzionare il 1000 settembre anche quest'anno ti voglio tantissimo bene un bacio grande ciao serena rossi grazie a te assolutamente finiamo tra poco che carina che carina serena è un po' una figlioccia all'età di mia figlia quindi quindi la ritengo proprio una figlioccia ma è veramente una donna straordinaria io se dovessi definirla non saprei dire se serena rossi sia una straordinaria attrice che canta meravigliosamente o una straordinaria cantante che recita meravigliosamente questo è vero non so quale delle due cose sappia far me poi come persona vabbè lo mostro non ha bisogno di è una persona amorevole è una persona buona e speciale grazie Nando sì no ma guarda è stata una corsa cioè anch'io 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 e questo ti dà anche la misura se tu invece dovessi definirti dopo non tanti perché sei un giovanotto però tanti anni di carriera questo sì dal bambino che imitava le imitazioni di Elighiero Noschese a oggi è sempre difficile dare un giudizio di se stessi però tu come come ti presenti? Guarda direi che il termine che più si addice a questa definizione potrebbe essere missionario missionario perché l'arte della recitazione e particolarmente del teatro ma in generale credo che sia molto più vicina alla missione proprio al missionario cristiano o laico che va nei paesi a divulgare il verbo e a creare accoliti così io mi sono sempre posto questo obiettivo quello di tra virgolette mi viene la parola educare che non è così ma il pubblico oggi è un po' diseducato perché ama la risata facile veloce sulla quale poi non si riflette va di corsa troppo di corsa e io soprattutto negli ultimi 15 forse anche 20 anni cerco di fare il possibile per portare a teatro al cinema qualcosa che possa far riflettere lo spettatore e tra la risata anche il dramma anche il pianto non è necessario far ridere anche se è più comodo insomma per lo spettatore certo Nando quando tu fai ridere la missione di far ridere è già una missione sapete perché dico questo perché a Nando Paone noi in diversi momenti della nostra vita i momenti in cui la risata ti raggiunge tu sei al cinema e magari stai male sei a casa e non sei nelle migliori condizioni una persona che ti è cara non sta bene e Nando Paone ti strappa quella risata e non solo la risata che in quel momento ti riconnette con le cose più belle e voi pensate che questo sia il finale col quale io lo stia salutando no perché lo teniamo a essere Anna Rossi un attimo un attimo di pazienza te lo rimandiamo subito a Napoli ma ci fermiamo perché abbiamo ancora qualcosa da mostrare noi a questo signore del teatro della recitazione di tutto Nando Paone è un sequestro di persona e dunque Nando Paone ancora con noi per qualche minuto solo qualche minuto lo promettiamo anche perché apprezziamo mille volte mille questa tua disponibilità anche perché diventa stucchevole dopo un po' ma come diventa stucchevole ma è una meraviglia mettete qualcun'altra ma per favore ma non dica così se Serena Rossi era tua figlioccia tua figlia poi è una figlia che ti adora che ci adoriamo che adori e una cosa volevo chiederti un papà così impegnato così mobile e questi sono i miei nipotini ecco ma gli occhi di gatto sono un'abitudine proprio vedete lei si è messa in mezzo a due gattini per far notare che il terzo gatto fosse lei bella come la luce un papà così in movimento come ha fatto ad essere papà presente vicino allora guarda io ricordo che una volta quando le cose prima che le cose cambiassero per una torne teatrale si partiva a settembre e si tornava a giugno e in quel periodo è stato il periodo della nascita crescita e adolescenza di mia figlia per cui devo ammettere di essere stato un papà abbastanza latitante ma nei momenti io ho preso aerei di notte per essere a casa alle sette del mattino lavarla vestirla accompagnarla a scuola e svenire subito dopo per poi ripartire per tornare insomma ho cercato di essere il più vicino possibile ma nei periodi di riposo io sono stato proprio mammo cioè mi mancava l'allattamento poi per il resto facevo di tutto meraviglioso Nandopone ella si chiama Giada e si vende non hanno visto il colore degli occhi prima di darle il nome però sai com'è insomma il nome è azzeccatissimo noi siamo veramente arrivati al finale di questo incontro non posso neanche definire le interviste è stato un onore però è arrivata un'altra cartolina signori Nando Paone ha fatto lavorare il nostro ufficio posta in maniera ma una cosa ciao papà non te l'aspettavi questo messaggio e invece eccomi qua a mandarti il mio saluto e a celebrarti quest'oggi perché anche se siamo lontani e i più attenti potrebbero essersi accorti che il mio accento non è esattamente partenopeo sei per me sempre una persona estremamente importante amo seguirti amo seguire quando reciti soprattutto perché come ti dicevo qualche tempo fa ho sempre bisogno di guardare più volte i tuoi spettacoli perché devo discernere i momenti in cui tu sei il mio papà e i momenti in cui ti stai recitando perché per me ovviamente sei sempre mio papà sei sempre quello che quando ero bambina mi leggeva i fumetti cambiando le voci ad ogni singolo personaggio sempre quello che quando venivano le mie amichette a casa faceva finta di sgridarmi e suscitava sgomento quando dicevo dai papà smettila e lo so che ti fa ridere questa cosa fa ridere tanto anche a me questa è una delle cose che mi hai trasmesso di più l'umorismo e il senso di rispetto per tutti quanti ti voglio bene papà a presto che capolavoro di siglia che capolavoro di siglia sono fierissimo sono orgogliosissimo e che capolavoro di papà però eh? e beh sai buon sangue non mente si dice è meraviglioso Nando Paone dove prossimamente veniamo ad applaudire ti? sarò impegnato sicuramente a teatro con Alessandro Preziosi in uno spettacolo che si chiama Aspettando Relier che è un focus del Relier un testo molto interessante di Tommaso Mattei per la regia dello stesso Alessandro poi riprenderò la lezione di Ionesco con la regia di Antonio Calenda e sicuramente saremo anche a Roma sono tante le cose mi spiego ah sì stiamo lavorando alla programmazione perché ho già diciamo sperimentato questo monologo che si chiama Sagoma monologo per luce sola scritto da Fabio Pisano con la regia di Davide Iodice Signori noi non sappiamo che cosa avrebbe potuto essere diventare il piccolo Ferdinando Paone se avesse deciso altro nella sua vita avrebbe sicuramente fatto tutto bene posso dirla questa cosa di Ferdinando Nando certo che il mio papà un giorno gli dissi papà ma perché mi chiamo Ferdinando suo padre il nonno come tradizione napoletana si dà al figlio maschio il nome del papà del padre quindi va bene nonno Ferdinando ma perché mi chiamano tutti Nando e lui mi disse guarda io sono andato al municipio in comune all'anagrafe a registrarti Ferdinando uscendo ho incontrato un amico che mi ha chiesto che fai qui e io gli ho risposto è nato Nando mi ha chiamato Nando dal primo giorno non ero qua quasi nato non mente Nando Paone grazie 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 pensate che non ho chiesto ad un napoletano doc tu lo prendi il caffè vero? yes yes quanti al giorno? troppi sono sui quattro anche cinque anche cinque ti dirò una cosa pure io adesso noi parliamo di caffè ma parliamo di caffè andando prima a trovare il signor Pietro Gasparotto che colleziona macinini da caffè guardate Nando grazie 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 a voi grazie a voi ci troviamo da Sanodecimo in provincia di Pordenone e stiamo parlando di macini da caffè che erano degli oggetti che servivano fino agli anni cinquanta per macinare il caffè perché il caffè appena macinato manteneva intatta la sua aroma il primo che ho acquistato è letteralmente questo e mi è piaciuto soprattutto perché è abbastanza in buone condizioni e quello che ha cominciato la serie adesso sono arrivato a 102 e credo di fermarmi il più prezioso senz'altro è questo qui perché oltre che essere una marca di macinini italiana è anche un oggetto di design in effetti si apre in tutte le due le direzioni la copertura e ha anche un disegno abbastanza come dire ricercato un macinino che ritengo prezioso considerata l'età questo qui soprattutto perché è in altitutto porta una iscrizione Vienna il primo agosto 1924 considerando l'età si trova tuttora in buone condizioni la mia passione nasce intorno agli anni 1999 in quanto mi sono appassionato agli oggetti vecchi perché ritengo che abbiano un certo fascino anche in relazione al vissuto di questi oggetti e soprattutto pensando anche chi li può aver adoperati per me il collezionista è una persona che ha un certo tipo di passione che ha un certo tipo di necessità di ricordare i tempi passati che possono ricordargli un componente della famiglia possono ricordargli una situazione particolare è qualcosa che contribuisce anche ad aumentare un certo tipo di cultura personale allora macinini da caffè caffè vorrei ascoltare un po' di Johann Sebastian Bach 1734 scrive il genio la cantata del caffè un'opera umoristica che racconta di una ragazza che beve troppi caffè allora il papà le dice se bevi tutti questi caffè ti impedirò di sposarti lei si spaventa si sposa ma mette nel contratto di nozze ah una volta che son signora posso bere tutti i caffè che voglio siamo partiti da lontano da Bach beh diciamo che forse probabilmente nella sua radio kiss kiss Bach non lo fa sentire non certo perché non lo ami ma perché fa sentire altro tipo di musica Stefano Piccillo che torna a trovarci Stefano ciao grazie Paola ben arrivato beh non è detto qualche volta per festeggiare la primavera andiamo proprio nel super classico quindi Bach è la primavera come l'ho detta l'ho sbagliata no 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 assolutamente anzi è dire io sto parlando invece Stefano Piccirillo guida editori sta scrivendo ma questa è un'altra storia ve la raccontiamo ve la raccontiamo tra un attimo Stefano quanti caffè bevi al giorno? anche io 4 o 5 devo dire la verità sono troppi però lo sai cos'è è che sono troppo buoni cioè li fanno troppo bene questa è la verità li fanno troppo bene e poi e poi se il caffè è fatto come lo fanno a Napoli e se voi sentite quest'uomo che canta e lui è Pino Daniele no voglio dire più di questo Sipario è del 77 lui arrivò pensa ti do questa piccolissima esclusiva assolutamente viva perché lui arrivò a Radio Kiss Kiss nel 1977 e c'era il regista che stava mettendo i dischi Maurizio Giordano che saluto e che è che ancora è fortunatamente qui e vive e combatte con noi e Pino Daniele portò il 45 giri di questa canzone dicendo grandissimo Pino che sarebbe diventato l'immenso me la suonate ed era un amico Kiss Kiss è stata la prima casa di Pino Daniele assolutamente lui arrivò in radio tranquillo ciao sono Pino Daniele con la sua montagna di capelli portando il suo 45 giri poi questa canzone tu mi insegni che è stato poi il paradigma della città di Napoli certamente certamente ed è una canzone che sapete l'abbiamo datata oltre grazie di questo ricordo grazie a te l'abbiamo datata Stefano perché poi tu la risenti ed è sempre sì perché lui voleva dire che Napoli non è soltanto ad Azzulele Caffè Napoli è tanto altro e lui stava portando avanti cominciando un movimento musicale straordinario innovativo che abbia scritto la pagina la pagina più bella è la musica non solo partenope ma del mondo guardate chiedere a Stefano Piccirillo di prestarsi a raccontare il caffè attraverso le canzoni è stata un'idea che ci è piaciuta tanto ma guardate ma proprio dovevate vedere la scena in redazione sì che bello chiamiamo lui e quindi eccoci siamo qui vi riporto al festival di Sanremo 1969 1969 in fondo non siamo così lontani qui la canzone ha un altro piglio Riccardo del Turco canta ma cosa hai messo nel caffè tu sai che Riccardo del Turco all'inizio non era proprio contentissimo all'arrangiamento che riteneva molto leggero perché è una canzone carinissima easy eccetera ma lui voleva dare un altro senso il passaggio testuale cosa hai messo nel caffè dedicata al cantautore Antoine oh ma certo meraviglioso certo e lui voleva omaggiarlo nel modo più degno possibile quando ascoltò l'arrangiamento diciamo eufemisticamente non fu troppo contento ecco e molto educatamente grazie Stefano non fu entusiasta però la canzone ebbe una cassa di risonanza così forte che superò il nervosismo da parte di Del Turco di Del Turco allora questa canzone è stata riproposta anche da quella da quel capolavoro che è Malika Iane mamma mia che ha dato poi una versione ancora più swing esatto perché poi già nella versione originale noi ascoltiamo l'arrangiamento swing poi con quella versione di Malika Iane così contemporanea ma così retro allo stesso tempo quella canzone ha detto io sono una canzone senza tempo senza tempo esisto e qua la faccio la domanda all'uomo che vive di musica di musica di scrittura però ecco di cultura perché poi alla fine questo sei tu sei una garanzia Stefano la parola caffè ci piace nelle canzoni e guarda è una delle più diffuse dopo la parola amore vita aria cioè se noi facciamo una sorta di top five sì certo top five lo adoro queste piccirillate che lui mi butta lì così scusate ma perché siamo molto amici se tu pensi che c'è una canzone di Alex Britti che si chiama Settemila caffè ti dà un po' la cifra di ciò che stiamo dicendo di quello che ce l'abbiamo chiedo siete dei miti cioè regia radiofonica regia radiofonica Settemila caffè sì anche questo è un Sanremo un Sanremo di Alex Britti che era esploso molti anni prima con solo una volta tutta la vita ma soprattutto Alex è un altro personaggio da caffè cioè se Alex non fosse figlio di Roma grandissimo sarebbe un figlio di Napoli è molto legato alla città alla passione a dei miti calcistici come dico Armando Maradona e tanti altri e poi soprattutto ha dato una connotazione alla sua musica innovativa cioè il blues il finger picking con la chitarra e soprattutto poi tutto questo sposato con il linguaggio più comune semplice e questa è la sua forza torniamo al discorso che facevamo prima con Nando Pone è il talento Stefano questo è il talento Settemila caffè siamo andati vi porto però un attimo indietro perché queste cose con Stefano Piccirillo si possono fare a tazze e caffè sì anni di studio va bene è l'origine di tutto è l'origine di tutto questo è Roberto Muro 1918 1918 1918 nel 1918 fu composta per la prima volta questa poesia possiamo definirla io adesso questa cosa te la devo dire mamma faceva le pulizie a casa di Roberto Muro anch'io che invidia meravigliosa la tua mamma la mia mamma faceva le pulizie aveva poi la passione per il canto non siamo un po' off topic però mi è venuto spontaneo ma ti ringrazio questa è una cosa bellissima che tu ci regali e quindi mamma insomma conosceva bene il grande Roberto e questa canzone ebbe origine insomma molto tempo prima che lei lavorasse con lui però ma così modi brigida è tanta roba che meraviglia grazie di questo ricordo grazie di questo ricordo legato alla tua mamma legato ad una Napoli legato ad un uomo Roberto Murolo con questa voce mai più ripetibile perché ci sono quelle voci che arrivano e rimangono quelle è la memoria storica della canzone popolare partenopea come disse Renzo Arbore che l'ha riproposta mille volte adorato Renzo con la sua orchestra italiana il giorno che salutarono per sempre Murolo e la custodia di uno Stradivari disse una cosa del genere una cosa bellissima mamma mia che emozione con il racconto della tua mamma meraviglioso allora chi di voi non si è svegliato al mattino mettendolo anche come sveglia con questa buongiorno a te anche perché questo è il merletto in seta ricamato con non lo so quando Luciano Pavolotti divenne popolare c'è il suo album pop nell'accezione più bella stiamo parlando di 21 anni fa circa canzone che poi è diventata l'inno degli spot pubblicitari ma non soltanto quando apri la serranda la prima luce di sole entra e c'è una differenza di questa canzone che racconta la colazione del lunedì il buongiorno del lunedì che è un po' più frenetico per tutti di corsa e la gioia di fare la colazione la domenica mattina con dei tempi un po' più rilassati e se prima parlavamo della voce e dell'arte di Roberto Murolo sentire Pavarotti Luciano Pavarotti è proprio essere entrare dentro alle gocce di cristallo si avete fatto un guete stizze del caffè bravissimi ma guardate adesso c'è la Mancini lì con la nostra dov'è Virginia Conti che aprono la loro ruota e fanno bene no scusate perché io le adoro e quindi adesso vi riportiamo ancora un pochino all'indietro la verità è che fare una hit sul caffè avendo Stefano Piccirillo che te la commenta signori abbiamo giocato facile abbiamo preso il caffè a Napoli a Piazza del Plebiscito proprio nel senso ci è andata nel migliore dei modi possibili allora 1967 chissà perché a Detroit però è lui che canta prego fra il buon gusto che storia che ha questa canta tu conosci Lola una certa Lola no perché questa canzone fu composta a Detroit chiamata Spaghetti a Detroit e poi con il ritornello che tutti conosciamo perché ci fu questo incontro meraviglioso da parte di Fred Bongusto con questa Lola Lola alla quale fu dedicata questa canzone Lola ragazza che ballava a Detroit nei locali più belli dove si esibiva anche Fred e nacque questa lunga cena che sfociò nel caffè naturalmente per continuare una notte straordinaria è un incontro molto romantico che bella questa cosa quindi è una storia è la fotografia di una storia di una notte forse più c'è anche Franco Migliacci in questa immenso immenso prima di arrivare alla prossima canzone alla quale vado subito perché abbiamo solo un minuto si ascoltano e riascoltano queste canzoni perché sono belle si ma si riascoltano soprattutto perché fanno parte dei nostri passaggi di vita quotidiana si passaggi di vita quotidiana e e pensieri grandi pensieri su quello che siamo o non dobbiamo diventare lui Fabrizio De Andrè Don Raffaele qui anche qui c'è Murolo no? certo e anche qui c'è la vita vera di un di un carcerato di un boss carcerato e del rapporto di complicità perché anche anche i secondini anche le guardie giurate e chi lavora all'interno delle strutture del genere diventano poi una sorta di famiglia e e questa questa canzone almeno nelle piccole cose nelle piccole cose insomma Raffaele Cutolo noi ce lo ricordiamo ce lo ricordiamo tutti ed è una canzone che ascolti e speri che non vada avanti così e invece va avanti così ma era De Andrè era il poeta che era poteva farlo allora prima di chiudere con lo zecchino d'oro beh radiofonicamente parlando velocissimi questo sta scrivendo e e raccontare magari davanti con una tazza di caffè sulla scrivania quanto sia bello trovarsi ritrovarsi raccontarsi attraverso una lettera è una lettera sta scrivendo noi lo notiamo nella chat di whatsapp quando qualcuno sta scrivendo con noi e invece è diventata una lunghissima lettera è una storia d'amore molto intensa dove si parla di amore di gioia ma anche di gestione della mancanza è questo il concetto il concetto di mancanza sta all'interno di questo libro lo scrivere il raccontarsi il sentirsi ma la mia domanda è ma quante volte l'avrà cantata anche Stefano Piccirillo questa canzone chiudiamo non balliamo il tango io Piccirillo solo per questione di decenza e insomma pure lì il zecchino d'oro i bambini il caffè perché la goccina di caffè il caffè latte che fai al bimbo alla bimba a tuo figlio a tua figlia è fondamentale il caffè è cultura e quindi il bimbo diventa grande e poi inizia a cantarlo e poi a gustarlo Stefano Piccirillo signori con il caffè del vostro prezzo chiude lui la nostra ora solare grazie Stefano signori grazie a tutti buon caffè a tutti ah noi ce lo prendiamo Val sì vero sì grazie grazie a voi ma che meraviglia